Ha iniziato a frequentare la palestra ed interessarsi di pugilato nel 1954, sulle orme del fratello Guido Mazzinghi. Pugile di buon valore, nel periodo giovanile è stato campione italiano Junioris nel 1958. Ha debuttato in nazionale nel 1959. È giunto terzo ai campionati europei a Belgrado nel 60 e, lo stesso anno ha vinto il titolo italiano e quello mondiale militare a Fort Dix, USA, per la categoria Super Welter con i colori della Ignis, di proprietà di Giovanni Borghi. Nel torneo eliminatorio per le Olimpiadi di Roma 1960 è sconfitto da Carmelo Bossi e non partecipa ai giochi.